Obiettivo chiaro per il Saronno che vede vicinissimo il traguardo della vittoria del campionato e vuole tagliarlo prima dello scontro diretto contro la base 96. Serve però a vincere Avanzaghello sul campo del Cass Sacco Nago impegnato nella lotta per non retrocedere. Partono forte Bianco Celesti, tiro da fuori area di Di Noto respinge coi pugni il portiere di Mango, ma anche il Cass di Luciano Cau non sta certo a guardare in ripartenza prova a farsi valere. Bertone gestisce, il contropiede apre sulla destra per la corsa di Avinci, tiro di prima intenzione sul quale attento Borges che respinge come il collega Saronno sempre sulle idee di Di Noto, qui il centrocampista Ispira Brighenti che prende il tempo e conclude con un diagonale velenosissimo che finisce a lato di un nulla. Rammarico per i tanti tifosi del Saronno, giunti a Avanzaghello che però fanno sentire sempre la loro vicinanza alla squadra, così Bianco Celesti vanno anche di entusiasmo dopo un contatto dubbio in area, il pallone capita sul secondo palo a Geller che calcia addosso a Di Mango sulla respinta è clamorosa, la traversa colpita da Drago col pallone che torna in campo e la chance che successivamente sfuma. Torna a farsi vedere il Cass, gran palla dentro per Bertone che spara sul portiere in uscita sprecando la più nitida delle occasioni dei padroni di casa, mentre l'ultima chance del primo tempo è per il Saronno con l'imbeccata centrale per Brighenti che però si attarda troppo nella conclusione e perde il tempo. 0-0 il primo tempo con le immagini nella ripresa e il Saronno concretizza subito al quarto d'ora, azione avvolgente dei Bianco Celesti di noto Pennella in area di rigore, un pallone morbido 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 che Drago di testa gira sul secondo palo facendo esplodere i tanti tifosi giunti a Avanzaghello. Partita sbloccata ed esultanza ma il meglio deve ancora venire, clamoroso errore di gestione del pallone del Cassacconago, Drago da 40 metri prova addirittura la conclusione in porta che si infila in rete sorprendendo il portiere 0-2, tutta la panchina del Saronno che coccola il suo numero 10 per quella che è una perla assoluta in questa domenica, ma è la sagra del gol bellissimo così il Cassacconago torna in partita col Siluro di Avinci che spedisce il pallone sotto l'incrocio dei pali con Borges che nulla può sulla conclusione potente del numero 11, 1-2 partita sulla carta riaperta anche perché il Cassacconago ha subito l'occasionissima per pareggiare al quarantesimo ma Berton si fa ipnotizzare da Borges che salva il risultato mettendo in corner corso il brivido il Saronno chiude la partita in contropiede, gestisce Simone Maugieri che serve solo in area di rigore Pelucchi per il gol, facile facile che vale il 3-1 ospite fa calare di fatto definitivamente il sipario sul match esulta a Pelucchi. Il Saronno trova anche il terzo gol di Drago per il poker finale e domenica prossima può esserci la grande festa bianco celeste.